Parto io come capogruppo del Movimento 5 Stelle, insomma forse quello che ha avuto più esperienza anche dal punto di vista politico in questi anni. Marta mi ha detto dai aprite il discorso di dire qualcosa di questi anni che abbiamo passato insieme. Magari si arrabbierà adesso Marta perché io in realtà un discorso non l'ho preparato, però è tutto sotto controllo, tranquilla, nel senso che mi sono detto adesso guardando i visi delle persone con cui abbiamo condiviso tutti questi anni da circa 9-10 anni fa fino ad oggi, che cosa mi ispira? E' qualche ispirazione arrivata, quindi sta tranquilla, vedrai che in pochi minuti vi dirò qualcosa di interessante, spero, su quello che abbiamo fatto in questi anni. Come sempre, anche ultimamente, se ci fate caso, ci dicono che siamo stati sempre quelli del no. In effetti qualche no in questi anni l'abbiamo detto, ok? L'abbiamo detto io, riguardando molti volti che oggi sono qui presenti, sicuramente abbiamo detto no a chi ci diceva che dovevamo stare davanti alla tv, guardare i talk show e a dire guarda quanto quello lì è simpatico, quanto parla bene quell'altro e quanto mi piace no a quella persona. Lì abbiamo detto di no, è vero. Poi abbiamo detto anche altri no, abbiamo detto no a chi ci diceva che tanto, vabbè, la politica è un luogo irraggiungibile, fatto solo per chi ha il pelo nello stomaco, fatto solo per chi deve fare un certo tipo di percorso e non è possibile arrivarci da parte dei cittadini normali. Anche lì abbiamo detto no e poi abbiamo detto no anche a chi ci ha detto che il voto di protesta è non andare a votare, invece matematicamente il voto, diciamo, non andare a votare è dare un voto praticamente a chi ha già i pacchetti di voto presenti sul territorio. Abbiamo detto di no a chi ha detto allora andate a votare il meno peggio e a questo punto abbiamo detto dei sì. Abbiamo detto dei sì che sono stati dei sì, in realtà secondo me anche di sacrificio dal punto di vista umano, perché comunque sia il nostro tempo libero, i nostri affetti hanno avuto, diciamo, un certo, se volete, deficit da un certo punto di vista, perché comunque sia abbiamo dovuto rinunciare molto spesso a passare il tempo con amici, con i nostri cari, perché abbiamo dovuto dedicarlo invece all'impegno politico. E poi anche un altro sì all'impegno intellettuale, se volete, perché comunque sia non abbiamo mai perso l'occasione di essere pronti, preparati negli argomenti che abbiamo dovuto affrontare sia in Consiglio Comunale sia nel confronto con i cittadini, quindi abbiamo sempre studiato, abbiamo sempre chiesto l'aiuto a chi, insomma, grazie, a chi, non so se così mi sentite meglio, benissimo, eh va bene, a chi in pratica poi ha cercato sempre di chiedere dei chiarimenti e noi ci siamo rivolti, non essendo tuttologi, a chi di dovere con persone che avevano, invece sapevano di quell'argomento. E che è stato un sì sempre molto faticoso da un certo punto di vista, che ci ha fatto perdere un po' del nostro tempo libero, a volte ha tolto, no, tempo alle nostre amicizie, ma forse ce ne ha fatte anche trovare le altre e questo è stato molto importante. Quindi oggi poi diciamo anche un altro sì molto importante che è quello, è un sì che chiediamo, no, a una giovane donna, a una madre, una moglie in una famiglia che io ho conosciuto veramente splendida, a una docente, no, un'insegnante alle scuole superiori, che oggi è la nostra punta di diamante, che è Marta Ruggeri, che è stata presente in tutta questa storia che io vi ho raccontato, fin quasi dall'inizio in pratica, quindi è stata presente nello ieri, nell'oggi e nel domani. Io sono sicuro che è la nostra punta di diamante oggi come oggi, perché veramente è stata sempre, è stata sempre un punto di riferimento per tutti noi. Allora mi viene in mente un esempio che, questa è deformazione professionale, sapete che io sono un biologo, da quando è, diciamo, è apparso l'ossigeno in atmosfera, le nostre cellule sono riuscite a utilizzare il glucosio, no, questo, diciamo, questo zucchero in maniera molto molto più efficiente. Da una molecola di glucosio con l'ossigeno le cellule ottengono circa 34 molecole energetiche, le chiamano monete energetiche. Prima dell'ossigeno se ne ottenevano dalla stessa molecola solo due o tre molecole. Ecco, per noi Marta Ruggeri oggi è questa boccata di ossigeno ed è la moltiplicatrice di energia per la città di Fano. Mi è venuta in mente questa cosa, quindi penso che possa riassumere molto bene questa esperienza che abbiamo con lei, quindi insomma assolutamente siamo contenti che ci sia, che ci possa accompagnare verso la vittoria di queste elezioni, perché noi ci crediamo assolutamente in queste elezioni, in questa vittoria che veramente stavolta è a portata di mano. Ora passo i microfoni, vedete, a Tristano Tonnini che ci parlerà forse sempre di Marta, ma forse in un'altra veste, quella un po' più umana di amicizia, può essere di amicizia. Prego Tristano. Grazie. Devo stare un pochettino girato perché non arriva. Eccoci qua. Salve, buongiorno a tutti. È un piacere per me essere qui e poter presentare quella che è un'amica, ma non solo un'amica, un'amica che stimo, stimo molto. Da quando ci conosciamo? Sono passati ormai più di 30 anni. Eravamo giovani ragazzi al liceo e passato un pochino di tempo. Marta non era Marta. Verissimo. Io sì però, io sì, io c'ero. Quindi è passato parecchio tempo da quando la conosco e in tutti questi anni ha rappresentato sempre un punto di riferimento nell'ambito della compagnia, nell'ambito delle amicizie e soprattutto ha portato avanti sempre con una grandissima costanza, con una grandissima perseveranza, quelli che erano i suoi impegni, i suoi scopi, le sue predilezioni. Prima in ambito di studio, poi in ambito professionale, si è spostata, ha studiato all'estero, anche a Parigi, è stata a Milano, ha avuto esperienze diverse anche in ambito di insegnamento. Poi tornata a Fano, le è nata questa necessità di interessarsi della cosa pubblica. Mi ha coinvolto subito dall'inizio, circa una decina anni fa, forse qualcuno in meno. Proprio per riuscire a trasformare in meglio ciò che ci circonda, una città già bellissima che speriamo con l'elezione di Marta possa migliorare ancora. In tutti questi anni ha dimostrato sempre una grandissima affidabilità. È sempre stata sempre molto coerente, molto seria e molto impegnata e sempre con una grandissima passione per quello che ha fatto, che oggi dimostra in ambito politico. E spero che questa passione emerga e coinvolga tutta la cittadinanza nella sua elezione. Grazie. Io parlerò degli ospiti dopo. Intanto mi concentro su di voi, vi ringrazio tantissimo per essere qui. Siete veramente numerosi e tra voi ci sono le persone a cui tengo di più, insomma, la famiglia, gli amici del movimento, i colleghi, amici della vita. E quindi per me è una gioia avervi qui ed è una giornata che reputo molto importante sia per me che per il mio gruppo, ma spero che lo diventerà anche per la città. E naturalmente dopo queste due belle presentazioni adesso mi sposto io un pochino sulla parte più densa del nostro lavoro, quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi e mi verrebbe da dire anche negli ultimi anni. Perché quello che vi sto per proporre è il programma che abbiamo studiato per rilanciare la Fano dal 2019 al 2024. Questo programma è un programma frutto di un lavoro molto profondo che ho fatto accompagnata da attivisti e da simpatizzanti che via via, come vedete quanto siamo numerosi, ci sono avvicinati al nostro gruppo e ci hanno prestato le loro competenze, la loro passione. Quindi diciamo che sono un collettore, ed è per questo che diciamo spesso che siamo portavoce, un collettore dell'intelligenza collettiva. Lo ripeto in questa sede perché ci tengo moltissimo. Quello che vedrete oggi, le cose che vi dirò e sono una minima parte di quello che troverete nel programma, è il frutto di un lavoro di un gruppo ampio di persone e non convolge solo il Movimento 5 Stelle, esclusivamente il Movimento 5 Stelle, perché in questi anni si sono avvicinati a noi e ci hanno dato tanti consigli anche persone che sono di altri orientamenti, però hanno creduto nelle nostre potenzialità, hanno riconosciuto la serietà del nostro lavoro, la voglia di cambiare e quindi si sono messe a nostra disposizione e adesso tutte queste cose sono a disposizione della città. Le consultazioni sono iniziate più di un anno fa, abbiamo cominciato a fare degli incontri delle realtà economiche, sociali, culturali, cittadine e tutte queste persone che abbiamo incontrato ci hanno dato il loro contributo che è compreso dentro questo programma. Saluto Fabio Massimo che è arrivato. E quindi il programma che vi mostrerò oggi, di cui vi darò solo alcuni cenni, è il frutto di un lavoro collettivo studiato dal cittadini per i cittadini, coinvolge tutta la città, non è esclusivo dei simpatizzanti 5 Stelle, perché durante questi incontri e questo lavoro siamo riusciti a fare una radiografia realistica e reale di quelli che sono i problemi cittadini, alcuni si treccinano irrisolti da decine di anni, altri addirittura da venti, altri sono nuovi e quindi ci siamo messi tutti a studiare dei metodi per riuscire a risolverli. e il frutto è un programma che oggi è in progress naturalmente, perché non è che lo chiudiamo oggi, anzi ci continueremo a lavorare prossimamente, però per farvi capire la mole di questo programma sono ad oggi sulle 130 pagine, divise per 10 capitoli incentrati e che ruotano intorno al concetto della sicurezza, infatti lo slogan della nostra campagna elettorale come sapete già è fanno sicura di sé, che cosa vuol dire? Che dobbiamo riscoprire la nostra identità, le nostre potenzialità e fare forza sui nostri talenti, perché per troppo tempo siamo stati schiacciati e abbiamo subito imposizioni che provengono da altri territori, invece abbiamo la necessità di trovare la forza, di sentirci appunto uniti con questo senso di comunità e quindi dobbiamo essere sicuri delle nostre potenzialità, puntarci e curarci di più di noi, dei nostri interessi e curarci delle persone a partire da quelle più deboli, deboli che siano bambini, malati, persone in difficoltà economiche e quindi puntando su questi tre aspetti della sicurezza li abbiamo come vedete declinati in dieci capitoli. C'è all'inizio una lettera che io indirizzo ai miei concittadini, c'è un prologo dove viene spiegato molto più diffusamente il concetto di fanno sicura di sé e poi si comincia dal primo capitolo che è quello della partecipazione per concludere con quello della sicurezza urbana. Allora è un programma condiviso ad oggi come vi ho spiegato prima che sarà maggiormente condiviso perché alla fine di ogni capitolo c'è una maschera, adesso se ce la fanno vedere, in cui è possibile inserire un commento. Questi commenti saranno inseribili fino a metà marzo quando chiuderemo la possibilità di commentare, ci ritroveremo insieme attivisti, candidati eccetera e valuteremo i commenti che sono arrivati recependo quelli che ci sembrano più utili insomma in linea con le nostre idee. Quindi come vedete è veramente un'innovazione perché ad oggi un programma fatto con queste modalità a fanno non c'è mai stato e queste sono le modalità che vogliamo mettere in campo soprattutto se vinceremo le elezioni. Quindi non saremo noi a Palazzo a scegliere quale strada intraprendere ma vi chiederemo sempre comunque se la strada intrappresa è quella giusta e di farla soprattutto insieme. Adesso vi dico qualche cosa del programma però soffermandomi principalmente sulle innovazioni perché molte cose sono questioni che abbiamo già sollevato in passato e altre sono già quelle che erano presenti nel programma precedente. Insomma oggi mi soffermo dandovi 4-5 spunti che sono assolutamente quelli più innovativi, più nuovi. Allora partiamo dalla questione che riguarda gli sgravi e le imprese perché facendo questo ampio giro di consultazioni ci siamo accorti che i problemi che i cittadini fanesi sentono maggiormente sono lavoro e sanità. E quindi adesso vi dico che cosa abbiamo pensato per aiutare lo sviluppo economico della nostra città perché come abbiamo visto tutti il centro sta morendo, negli ultimi mesi hanno chiuso un sacco di negozi, la stessa cosa sta succedendo nei quartieri periferici, c'è qualcosa che non va e quindi bisogna tentare di risolvere. Abbiamo pensato quindi a degli sgravi fiscali che aiutino i nuovi imprenditori. Quindi per un imprenditore che apre una nuova attività in qualsiasi punto del nostro comune però che assuma almeno tre persone, una a tempo indeterminato ci sarà l'esenzione totale dalle tasse comunali. Quindi sto parlando di Tari, di Tasi, di Tosap e della tassa sulla pubblicità. Lo stesso taglio esenzione dell'imposta ci sarà per chi invece apre un negozio in centro oppure nelle zone che abbiamo reputato strategiche che sono quelle lungomare e in queste zone sarà possibile aprire un'attività avendo gli stessi sgravi semplicemente con un dipendente che sia almeno a tempo determinato per un anno. Gli stessi sgravi li abbiamo previsti anche per incentivare il lavoro giovanile, quindi per i giovani che aprono un'attività sotto i 30 anni e poi per chi apre un negozio di vicinato o anche in centro però che lo faccia in una sede che è chiusa da più di un anno. Quindi se si apre un negozio dove purtroppo c'era un'attività che è chiusa da più di un anno e non viene più locata da quel periodo daremo gli stessi incentivi. Però questo è quello che abbiamo pensato per incentivare il commercio e l'imprenditoria però naturalmente abbiamo pensato anche a come agevolare le famiglie che in questo momento storico capita spesso che siano in difficoltà ed è per questo motivo che la natalità sta diminuendo notevolmente. Negli ultimi 4-5 anni a Fanno sono nati circa il 30% di bambini in meno che è un dato allarmante anche perché confrontato con quello già negativo nazionale siamo messi un pochino peggio. E quindi abbiamo pensato a questo pacchetto familiare per bambini che vedano che praticamente venga dato un buono spesa a partire dai 1000 euro in base all'ISEE spendibile per ogni nato presso le farmacie ASET oppure se riusciremo a farle con delle convenzioni per i negozi per l'infanzia. Il buono è spendibile per tutta la famiglia quindi non solo per prodotti che possano servire i bambini e in più sono anche associabili a quelli già emanati dall'IMSS. Questo per la natalità però naturalmente bisogna accompagnare anche le famiglie nella cura e nello sviluppo dei propri figli e quindi abbiamo previsto dei tagli alle tariffe comunali come quelle per gli asili, come il trasporto pubblico o quello delle mense. Per cui chi ha due figli che usufruiscono dello stesso servizio contemporaneamente il secondo figlio pagherà il 50% della tariffa che deve in base all'ISEE e dal terzo in figlio poi non si pagherà nulla. Quindi vogliamo azzerare queste tasse. Ci saranno aiuti fiscali ai meno abbienti, graduando l'addizionale IRPEF. Abbiamo previsto aiuti sociali di incrementarli per le famiglie in stato di bisogno per aiutarli a pagare bollette, per aiutarli nell'alloggio e nelle spese quotidiane. È un'altra questione che ci sta molto a cuore, quella naturalmente del turismo. Oggi non siamo qui per caso, siamo in una cornice meravigliosa che è questa del porto turistico di Fanno che per quanto bella sia è poco valorizzata. Quindi intendiamo puntare per il miglioramento e lo sviluppo economico della nostra città anche e soprattutto sul turismo e quindi su una branca del turismo nuova che è quello del turismo esperienziale in cui il turista si immerge in situazioni non abituali. Quindi per esempio immergersi nella cultura, nell'ambiente, nella storia di un paese differente dal proprio. e sono ormai quasi comuni i soggiorni nelle aziende agricole per seguire itinerari floristici o faunistici per esempio. E potremmo puntare a fare questi percorsi soprattutto nelle nostre bellezze archeologiche che sono meravigliose puntando sulle nuove tecnologie e quindi sulla realtà aumentata. Su questo ci puntiamo tanto perché potrebbe essere un volano a doppia mandata per l'economia perché voi immaginate che per strutturare queste applicazioni altamente tecnologiche serviranno delle start up e quindi dei giovani volenterosi che si possano trovare in questo modo una via nuova di lavoro. Continuando a parlare di sgravi naturalmente le nostre strutture hanno bisogno di uno svecchiamento e quindi abbiamo previsto degli sgravi anche per i nostri albergatori in modo che riescano a offrire ai turisti ciò che sempre maggiormente più cercano quindi una ricettività che sia di alta qualità e combatteremo naturalmente anche l'abusivismo ricettivo. Per quanto riguarda il PRG ho quasi finito però alcune cose ve le volevo dire voi immaginatevi la fatica di sintetizzare cento e passa pagina. Per quanto riguarda il PRG sapete che noi riteniamo quello attuale assolutamente sovradimensionato quindi bisognerà metterci in mano quanto prima e farlo nell'ottica del consumo zero di territorio cioè incentivando la costruzione sul costruito, il fatto che debbano essere riqualificate le zone di degrado e rigenerate alcune parti di città soprattutto nell'ottica dell'efficienza energetica. Quindi anche in questo campo stiamo prevedendo, prevederemo degli incentivi. Sulla mobilità abbiamo già speso tante parole, siamo per la mobilità sostenibile, bisogna costruire piste ciclabili, piste ciclopedunali che attraversino tutta la città, che colleghi nel centro il mare ai vari quartieri in sicurezza in modo che chiunque possa spostarsi per la città in questa maniera, compresi i bambini, i portatori di handicap, quindi un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche si rende assolutamente necessario. Sul centro storico lo stesso abbiamo detto tante cose in passato, le ripeto velocemente, bisogna rilanciare questo cuore pulsante della nostra città e farlo in modo che diventi veramente un luogo di aggregazione e il punto da cui la cultura si diffonde in tutta la città. In questa ottica riteniamo che non debbano esistere più periferie ma semmai luoghi decentrati, quindi anche per questi luoghi dobbiamo immaginare dei luoghi di aggregazione che purtroppo spesso in tutti i quartieri non ci sono, una riqualificazione dei parchi e dei campi polifunzionali per il gioco anche dei ragazzini un pochettino più grandi e quello che chiamiamo il commercio di prossimità. Un'ultima cosa per rivalutare, rivitalizzare il centro storico, riteniamo anche che si debba spostare la via di traffico che ci porta da sud di Fano a nord, quindi verso Pesaro, fuori dal centro cittadino. Adesso lambisce praticamente il centro storico che è un'assurdità, quindi attraverso l'aiuto dei nostri parlamentari soprattutto cercheremo di realizzare questa tangenziale che faccia passare il traffico fuori dal centro cittadino e naturalmente anche la questione della Fano Grosseto non potrà essere trascurata perché con la costruzione dell'acquadrilatero ci siamo trovati tagliati fuori dalle vie turistiche anche da quelle commerciali e industriali e quindi bisognerà portarvi una soluzione. Siamo al porto, come vi dicevo prima ci puntiamo molto a questa zona della città però bisogna principalmente risolvere il problema del dragaggio, cosa che ad oggi non è stata fatta, quindi come prima operazione punteremo a trovare una zona di mare antistante alla nostra città dove riversare i fanghi che non siano inquinati così come la legge prevede, individuare una zona dove costruire una cassa di colmata perché i fanghi inquinati speriamo che siano sempre di meno facendo dragaggi frequenti e quindi adesso quelli che sono stoccati anche in banchina qui aspettano da tempo insomma di essere portati nella vasca di colmata di Ancona e questo non è più sostenibile. E poi intendiamo anche progettare qualcosa che ci aiuti a risolvere definitivamente questo problema che potrebbe essere separare il canale fluviale dal porto così come hanno fatto Pesaro, come è stato fatto a Serigaglia, quindi se è stato fatto altrove probabilmente lavorandoci seriamente si potrà fare anche qui. Puntiamo anche alla riqualificazione della nostra zona industriale che ha bisogno innanzitutto di strade curate per i trasporti e di una dotazione completa della banda ultralarga che ancora manca. E in ultimo, ultimissimo argomento e poi passo ad altro è qualcosa sulla sanità. Io parlo di sanità da tanti anni, mi sembra quasi a volte di ripetere sempre le stesse cose però mi rendo conto che in tutti gli incontri pubblici che faccio e soprattutto adesso nei quartieri c'è sempre qualcuno che mi chiede conferma è vero che siete contro l'ospedale unico? Perché hanno paura che magari nel frattempo abbiamo cambiato idea. Quindi anche se velocemente tratto quest'altro tema un attimo, siamo contro l'ospedale unico e siamo per il potenziamento del nostro ospedale cittadino che è l'ospedale Santa Croce. Vogliamo che la sanità sia pubblica, abbiamo un ospedale funzionante e dobbiamo puntare al fatto che non solo non perde i servizi che attualmente, e penso a ostetricia, ginecologia, pediatria, ma che vengono incrementati i servizi che attualmente non ci sono più. Detto questo siamo anche fermamente contrari all'istituzione, alla creazione della clinica privata così come questa amministrazione sta facendo altri amministrativi per realizzarlo e ho già dichiarato, lo faccio anche oggi, che se dovessi essere eletta sindaca la prima azione politica che porterà in Consiglio Comunale, sarebbe l'atto di revoca di questa variante, perché i 50 posti di ortopedia vogliamo che siano pubblici e il nostro reparto è sempre stato un fiore all'occhiello finché non è stato scientificamente smantellato e oggi ci troviamo in questa situazione. Ci hanno detto che serviva un ospedale unico perché tutte le eccellenze fossero localizzate in un luogo solo, adesso ci raccontano che Fanno avrà tre ospedali nel giro di 12 chilometri, ci stanno dicendo il contrario di quello che ci hanno detto fino ad oggi e non so chi ancora può credere a queste cose. Facendo il conto dei numeri di posti letto i conti non tornano, perché 612 posti letto li avrà l'ospedale di Muraglia, 50 posti letto li avrà la clinica privata, adesso ne abbiamo 500 e qualcosa, vi chiedo quanti posti letto mai potrà avere l'ospedale Santa Croce, secondo me c'è qualcosa che non torna. Comunque detto questo io vi invito assolutamente a avere la pazienza di leggere il programma che tra pochi giorni sarà scaricabile direttamente da un pdf se lo volete intero oppure potrete andare a consultare solo i capitoli che vi interessano. Guardando come è stato fatto il sito, se lo riesco a guardare, eccolo, allora vedete ci sono sei fotoparlanti dove abbiamo sintetizzato degli slogan che si riferiscono ai dieci capitoli del nostro programma. Poi abbiamo una sezione che si chiama le nostre battaglie e ho costretto praticamente qualche collega qui a venire al tavolo con me perché secondo me in persona la nostra storia. Dieci anni di battaglie, ne abbiamo fatte tante per la salute pubblica, per la sanità pubblica, per la trasparenza nell'ambito sociale, per la mobilità, per i fondi europei, per la sistemazione del porto, per la trasparenza in un aeroporto, se vado avanti non finisco più. E quando ho chiesto di fare questa sezione, i ragazzi sono stati un giorno intero a trovare i passaggi più significativi, da quanto materiale c'è sul nostro altro sito che è www.fanno5stelle.it che raccoglie tutti i nostri interventi degli anni. Arrivo, arrivo. Poi, tre giorni, non uno. E tornando in su, dopo le nostre battaglie, Adar prima ci ha detto qualcosa, molti non se lo ricordano, ma perché è voluto qui Carlo De Marchi? Perché molti, io so, ho torto collo, accettato di venire qua. Perché non se lo ricorda praticamente nessuno, ma il primo consigliere comunale che ha fondato nel nostro consiglio comunale, il gruppo consigliare Fanno 5 Stelle, è lui, che era il nostro candidato sindaco all'epoca di Bene Comune. Quindi Adar, che tutti consideriamo il primo esponente del Movimento 5 Stelle, in effetti non lo è, e lui è entrato appena si è dimesso Carlo. Nel 2014 è stato candidato sindaco per un soffio, non abbiamo vinto quelle elezioni, siamo entrati in consiglio comunale in tre, io, lui e Roberta Ansuini, che purtroppo oggi non potrà essere qui perché fuori Fanno. Quando Roberta si è dimessa è entrato Giovanni Fontana in consiglio comunale e ancora all'epoca eravamo un po' sognatori, già ci sembrava tanto essere riusciti a entrare in consiglio comunale, ma cosa è successo? Che nel 2018, il 4 marzo, è successo l'imponderabile, l'immaginabile, siamo riusciti a fare leggere la nostra città, tre parlamentari che sono qui presenti Maurizio Cattoi, Rossella Cotto e Roberto Russini. Su 12 parlamentari marchigiani, tre sono di Fanno, il che vuol dire che da un certo punto di vista ci potremmo anche ritenere soddisfatti, ma noi non ci accontentiamo mai, sappiamo che ancora tanto c'è da fare e siamo qui con la voglia di rimboccarci le maniche e continuare in questa lunga strada, speriamo lunga, che ci porterà ad avere altre soddisfazioni. Poi, chi sono? Non mi soffermo più di tanto perché ne ha parlato Adar, quindi comunque lì c'è una brevissima biografia del programma, abbiamo detto. Le news sono tutte le novità, tutti i comunicati che riguardano questa campagna elettorale, c'è la sezione video naturalmente con i video sempre relativi solo a questa campagna elettorale, contatti attraverso cui mi potrete scrivere e risponderò io, aiutata dallo staff, e poi la parte del sostienici, attraverso la quale potrete fare piccole donazioni o anche un po' più grandi, ci auguriamo, perché tutta la nostra azione politica è basata sull'autofidanziamento, quindi anche una piccola donazione da parte vostra per noi è un grandissimo aiuto. Mancano solo due sezioni, che sono la squadra, che ho promesso che renderò pubblica prima delle elezioni, quindi quando a Fano si voterà per Marta Ruggeri Sindaca, saprete dietro chi sarà a aiutarmi come assessore e quanti saranno. Non vi dico nient'altro perché faremo un altro evento per presentarveli, vi dico solo che saranno pochi, pochi e che si impegneranno tanto, quindi una squadra agile, formata da persone di mia strettissima fiducia e che abbiano buone competenze, ottime direi, relativamente agli incarichi che darò loro. E poi manca la sezione dei candidati per i quali naturalmente faremo un altro evento e comunque sono stati tutti certificati, già noi sapete da qualche tempo che abbiamo ricevuto la certificazione. Quindi penso di avere detto tutto, se non che mi manca un'ultima cosina. Avete visto che stiamo cercando di usare già in questa campagna elettorale le nuove tecnologie per fare capire quanto è facile farlo. Ci sembrano cose distanti ma non lo è per niente. Nei manifesti che avete visto in giro nei giorni scorsi in città, nei volantini che vi saranno capitati in mano, c'è il codice QR attraverso il quale voi potete collegarvi direttamente ai miei social, quindi alla pagina Twitter, Instagram, Facebook e al sito. Naturalmente tutto è condivisibile sui vostri siti social, sulle vostre pagine social attraverso due bottoncini di facile utilizzo. Quindi io vi prego di non farvi prendere dalla pigrizza ma di aprirlo, andare a leggere, anche darci suggerimenti, vanno bene anche critiche, però quello che mi premerebbe è che quando si voterà il 26 maggio a Fanno voi metterete una croce informati. Quindi sia che votiate per noi che per qualcun altro, vi prego di sapere qual è il programma che andate a votare e non se la faccia è simpatica, antipatica, se lo conosco, se si candida a mio cugino, ma valutate le idee e la credibilità delle persone che ve le sottopongono. Detto questo vi ringrazio per l'attenzione di cui in parte ho anche abusato un po'. Prima di lasciare la parola, dulcis in fundo, ai nostri due ospiti che sono Fabio Massimo Castaldo che è il Vice Presidente del Parlamento Europeo e Laura Gea, eurodeputata, anche loro eletti nella nostra circoscrizione. Prima di lasciare la parola a loro vi dico che dopo faremo un piccolo brindisi benaugurale, quindi vi pregherei di non scappare alla fine dell'incontro. vi ringrazio e io spero veramente tramite il vostro aiuto, il vostro sostegno che fanno torni ad essere sicura di sé. Grazie. Bene, buongiorno a tutti e come sempre grazie, perché ci sentiamo sempre a casa, in famiglia, quando ci chiamate. Dal freddo umido di Bruxelles a questo sole bellissimo di Fano, sicuramente per noi è una grande boccata di energia, di sole e anche di tanto entusiasmo. i ragazzi di Fano li conosciamo più o meno da sempre, perché hanno saputo fare di un'amicizia, di uno stare insieme, di un condividere le idee, di essere capaci di fare gruppo e fare squadra, il punto di forza che oggi li porta per, quindi la terza volta, a presentarsi alla guida di questa città. e io credo che la terza volta sarà quella buona, io ve lo auguro proprio di cuore. Perché una città come questa merita di prendersi cura di sé, Fano si cura di sé vuol dire sì, si cura di sé, ma anche si cura di sé, che si prenda cura di sé. Quindi è un po' un gioco di parole che si comprende e ha un senso profondo. Io credo che li potete vedere, li abbiate visti e conosciuti in questi anni e sicuramente sappiate bene che sono non solo all'altezza, ma hanno quel qualcosa in più, quel tanto in più che è indispensabile per curarsi di una città. È un amore profondo che nasce dalla concreta consapevolezza che ci sono problemi, che si affrontano con coraggio, che ci sono scelte, che si prendono con determinazione, che ci sono decisioni che meritano adesso, ora, una presa di posizione forte. Ci sono tante emergenze, ci sono tante situazioni complesse e un po' come abbiamo fatto al governo dovete fare voi, senza esitazione partire dai veri problemi. Noi lo abbiamo fatto, che ne dicano, che ci accusino, sanno bene quelli che sono i nostri detrattori. La povertà è un problema e noi con il decreto dignità abbiamo scelto consapevolmente, con coraggio, di occuparci del primo problema di questo Paese, la povertà, la sicurezza. Ce ne sono tanti, il bisogno anche di un ricambio generazionale nel mondo del lavoro, quota 100. Avete visto quante sono già le domande delle persone che hanno fatto una scelta e oggi vogliono lasciare anche che altre persone prendano il loro posto, che i giovani non decidano di andarsene dall'Italia, ma che possano trovare qui in Italia il loro percorso lavorativo. Quindi questo è quello che auguro a Fano, veramente la possibilità di cambiare, di occuparsi delle cose fondamentali con coraggio. Come è stato fatto, come si sta facendo al governo, come fanno i nostri colleghi al Senato, alla Camera, come fanno quelli che sono in prima fila e sono, io li chiamo un po' i nostri portacroce, sono i sindaci, sono i sindaci come lo sarà Marta. E allora vanno, loro sono veramente in trincea, sono costantemente su un terreno che è un terreno molto spesso di battaglia, duro, dove se fai bene è scontato che fai bene, ma se fai male ti assicuro che qualunque minima sbavatura tu possa fare, vieni appeso in piazza al pubblico ludibrio. Loro sono i nostri eroi, loro con le loro squadre di governo, Gabriele, la Cinzia, là che è alto, quindi anche se si nasconde si vede, Roberto Ascani, gli altri non li vedo se ci sono, ma è importante. Vedete come siamo tutti insieme, quando c'è bisogno di stringersi attorno a qualcuno che inizia una nuova avventura, una nuova battaglia, noi si schiocca le dite e ci siamo, consiglieri comunali, consiglieri regionali, perché li vedo, parlamentari nazionali, senatori, sindaci, io e Fabio, che ovviamente faremo di tutto in questo periodo che vi aspetta da qui al 26 maggio per sostenervi e darvi una mano. D'altra parte dovete fare la stessa cosa con noi, la partita europea sarà determinante, queste prossime elezioni europee, ragione Luigi Di Maio, saranno un referendum per scegliere se vogliamo ancora l'austerità oppure no. Noi vorremmo e noi ci batteremo, perché la prossima Europa sia un'Europa dove la parola sociale non sia semplicemente uno sponsor, un annuncio fatto tanto per fare, ma dove la parola sociale diventi l'anima di qualunque scelta e di qualunque azione. Sarà veramente tracciare una linea tra ciò che è stato e ciò che non dovrà mai più essere. E abbiamo un esempio di quello che non dovrà mai più essere l'Europa, ed è la Grecia. Noi per l'Italia sceglieremo qualcos'altro, noi sceglieremo i cittadini, i loro bisogni, le loro esigenze e ci prenderemo cura di loro. Ci occuperemo delle loro sofferenze che sono state per decenni ignorate. Salvo poi sentire Juncker alla fine del suo incommentabile mandato da Presidente della Commissione Europea a dire che forse noi con la Grecia siamo stati un pochino avventati nelle scelte. No, avete fatto delle scelte criminose. Avete condannato una nazione e un popolo alla distruzione. Ci vorranno decenni per far ripartire la Grecia. Ci vorranno decenni per occuparsi del dolore, della sofferenza, della devastazione che è stata causata in Grecia. Ecco, questo per noi sarà un punto essenziale. Mai più quello che è successo. Noi abbiamo ben chiaro quello che vorremmo realizzare, quello che realizzeremo il prossimo anno. E lo vedete che più o meno i discorsi tornano a qualunque livello. Ci si occupa prima di tutto delle persone. Le persone, anche il singolo, perché la sofferenza del singolo deve essere l'impegno di tutti per cancellarla. E per dire mai più. Dal cittadino, dal bambino, dall'anziano, dal portatore di disabilità. Chiunque deve essere una priorità. Laddove c'è sofferenza, state sicuri, ci sarà il Movimento 5 Stelle ad occuparsi e prendersi cura e a lenire le sofferenze delle persone. Perché lo stiamo dimostrando, lo abbiamo dimostrato. E se non fosse vero non ci attaccherebbero quanto ci attaccano. Perché se non avessimo fatto bene... Starebbero lì in sordina. E invece li vedete, sono come degli animali feriti. Piuttosto che stare lì buoni e tranquilli, si ribellano. Sanno che sono alla fine. Che non ce n'è più per nessuno. Perché noi siamo dalla parte giusta della storia. Voi, noi, Marta, i suoi ragazzi, siamo dalla parte giusta della storia. E la storia ce ne darà ragione. Buongiorno a tutti. È un enorme piacere ritornare a trovarvi una delle tante volte in cui ho avuto il piacere di visitare la splendida Fano. E vorrei cominciare a dirvi, a farvi questo breve saluto parlando di immagini. Perché oggi, quando sono entrato in questa sala, ho pensato effettivamente a tre immagini in particolare. La prima immagine è del 2014. C'era un ragazzo di 28 anni, appena eletto al Parlamento europeo. C'era un ballottaggio importante in una città della provincia di Pesaro-Orbino. Io ho preso la macchina, partì e dissi, io voglio andare a conoscere, gli voglio andare a dare una mano. E qualcuno mi disse, ma sei pazzo, sei stato appena eletto, avrai 3.000 cose da fare. Ho detto, che c'entra? Ho detto, tutto nasce e finisce sempre nei nostri territori. E noi non ce lo dobbiamo dimenticare mai. E quindi presi, all'epoca venne anche con altri colleghi, ovviamente. Partimmo con una macchina, vi ricordo, facciamo un giro anche in Toscana. C'era Nicola Mora, Riccardo Fraccaro, che adesso è il nostro ministro per la democrazia diretta. Il primo ministro al mondo per la democrazia diretta. E l'ha nominato il Movimento 5 Stelle. E ci ritrovammo a fare questo bel tour. Arrivai a Fano. E mi ricordo che c'era quel ragazzo lì, candidato. E ci guardammo e ci dicevamo, allora che facciamo? In attesa dell'evento in piazza stasera andiamo a volantinare. Andiamo a volantinare. Ci siamo fatti insieme tutte le vie del centro di Fano. Abbiamo fatto poi il comizio in piazza, bellissima, gremitissima. Forse c'era anche Carlo Sibiglia, se non mi ricordo male. C'erano un po' di altri amici e poi l'abbiamo visto in diretta, mentre asfaltava in diretta nel confronto il candidato che poi, ahimè, per una manciata di voti avrebbe vinto. E quindi vi dico, a distanza di cinque anni, che quella volta il risultato l'abbiamo sfierato. Adesso siamo pronti veramente a raccoglierlo e a diventare forza di governo a Fano. La seconda immagine di cui vi voglio parlare è l'immagine di un gruppo di persone, di visionari forse, di folli. Eravamo folli nel 2012, nel 2013, senz'altro. Quando abbiamo detto che possiamo fare politica senza soldi, possiamo costruire un nuovo modo di fare politica dal basso, possiamo dimostrare che tutto sommato quello che veramente conta sono le idee e la coerenza nel volerle perseguire. E oggi in questa sala ci sono delle persone speciali. C'è un gruppo consigliare che adesso ha deciso che Fano ha bisogno di una sindaca in gamba e competente e che con un'alternanza e una staffetta sia pronta a prendere le redini di un lavoro che è durato tanto tempo e tanti anni di opposizione, sempre coerente e costruttiva. Ci sono i nostri nuovi eletti alla Camera del Senato, Rossella, Maurizio, Roberto, che ovviamente sono espressione di questo territorio, ne sono molto fieri e orgogliosi. E soprattutto hanno la volontà di fare un raccordo costante con il nostro esecutivo per far sì che anche questo quadrante venga ascoltato e gli si costruisca una politica del governo del territorio su misura. Perché ogni territorio ha le sue peculiarità, ha le sue specificità, va ascoltato e le priorità vanno costruite in funzione appunto anche del modo in cui i cittadini pensano che debbano essere adattate alle specificità del territorio. Ma soprattutto ci sono i nostri guerrieri della prima linea e sono qui con me Cinziaferri di Montelabate, Gabriele Bonci di Fossombrone, Roberto Ascani di Castelfitardo. Ci siamo visti tantissimi anni nel corso, tantissime volte nel corso di questi anni e questa seconda immagine sta a significare una cosa, che qui non c'è un partito, qui non ci sono lotte di segreteria, qui c'è una famiglia. Una famiglia che quando ha bisogno si stringe intorno a chi si presenta per cercare di segnare una discontinuità, una famiglia che però non si vede soltanto nelle campagne elettorali, una famiglia che c'è sempre. E quando c'è bisogno di fare squadra, noi ci siamo e ci continueremo a essere come ci siamo sempre stati. E quindi l'impegno di Marta è l'impegno di tutti quanti noi per cambiare la storia di Fano. La terza immagine è quella che forse potrei definire della concretezza. Perché tante volte ti capita di ascoltare delle promesse francamente assurde, irrealistiche, comincia la sagra di chi la spara più grossa in campagna elettorale. Non so adesso, perché non abbiamo avuto tempo di parlare, se anche qui è cominciata una pratica che noi conosciamo molto bene anche nel Lazio, che è la pratica del cosiddetto asfalto elettorale. Cioè mancano tre mesi, tutto quello che non è stato fatto in quattro anni e nove mesi precedenti viene cantierizzato, allora buche subito interveniamo con appunto gli opportuni appalti fatti così al volo. C'è qualche problemino, promesse faraoniche di investimenti. Diceva prima Marta, prima lottano per l'ospedale unico, poi ne vogliono fare tre. Tra poco se saranno in difficoltà con i sondaggi diventeranno cinque, perché bisognerà darne uno per quartiere. Sono cose che conosciamo ormai a distanza di anni. Il Movimento 5 Stelle non viene invece a rilanciare offerte degne e giusto di un supermercato. Il Movimento 5 Stelle, quello che pensa per Fano, ve lo dimostra dentro questo sito, io lo sono andato a vedere, con tutte le emozioni, con tutte le interrogazioni, con tutti gli atti che il nostro gruppo ha fatto in cinque anni. Lì, in quelle azioni, c'è scritto cosa noi vogliamo fare per Fano. Non c'è bisogno di inventarsi nulla. E questa immagine, la presenza di oggi, così nutrita, così folta, anche il nostro gruppo regionale, vedo anche Gianni che saluto, vuol dire una cosa, che lo sapete. Lo sapete come hanno lavorato, li avete visti in azione e sapete che questa è una proposta che è frutto di lavoro, di impegno, di riflessione, una proposta seria. Basta promozioni da supermercato in campagna elettorale, basta balle irrealizzabili, basta spreco dei nostri soldi gli ultimi mesi, semplicemente per mettere un po' di maquillage su tutto quello che non è stato fatto negli ultimi cinque anni. Ed ecco, io ne ho visti tanti di casi di successo anche del Movimento 5 Stelle sul territorio. Me ne viene in mente uno oggi, che è il caso di Pomezia. Io vivo a pochissimi chilometri dal comune di Pomezia, conosco bene quella realtà. Per tanti anni, da ragazzo, ci andavo anche a studiare in biblioteca quando ero all'università. Pomezia era una città abbandonata, in crisi industriale, con una realtà industriale importantissima, degradata, aveva cominciato a non essere neanche sicura. Tutti volevano andarsene via, a distanza di ormai sei anni, perché abbiamo fatto cinque anni di primo mandato e già siamo quasi a un anno del secondo mandato, la storia è cambiata. Non soltanto dai comuni limitrofi, a molti cercano di trasferirsi lì, perché sono aumentati i servizi, si è stato riorganizzato completamente il trasporto pubblico. Pensate, mi raccontava l'assessore, lì all'epoca fecero un calcolo ogni giorno con dei percorsi assurdi, gli autobus locali coprivano in realtà chilometricamente la distanza tra Roma e Mosca, mi ha detto. Con dei percorsi totalmente allucinanti, loro semplicemente razionalizzandoli e andandoli a far insistere negli orari di maggior frequenza, nei luoghi di maggiore importanza, hanno aumentato i servizi e hanno ridotto gli sprechi. Perché l'obiettivo spesso della politica tradizionale non è spendere soldi per fare opere e interventi utili, ma fare opere e interventi inutili per spendere soldi. Questa è la differenza. E più ne spendono, più sono ovviamente contenti. E dove governa il Movimento 5 Stelle, nella stragrande maggioranza dei casi, i cittadini cominciano a vedere che di soldi si risparmiano dagli sprechi, cominciano ad essere invece spostati sulle vere priorità e comincia ad esserci attenzione anche all'idea di concepire chi ti sta di fronte, non come un elettore, non come un portatore, quindi di una possibile delega in bianco per fare quello che vuoi per cinque anni, da ricomprare alla fine dei cinque anni periodicamente, ma come un cittadino. Marta prima parlava di sgravi specifici per le piccole e medie imprese, per far sì che si faccia impresa a Fano, parlava anche di bonus, mille euro se non ricordo male, per i bambini, quindi per quelle famiglie che decidono ovviamente di avere la gioia di avere un figlio e ulteriori incentivi per far sì che aumenti la natalità, perché un paese, una cittadina come Fano di 60 mila abitanti in cui non ci sono più bambini, è una cittadina che scomparirà, potrà succedere tra dieci anni, quindici anni o vent'anni e i nostri sindaci anche nelle altre città lo sanno, ma se non si investe su quel futuro e ovviamente chi decide di fare una famiglia decide di farla anche perché le scuole funzionano, perché il trasporto locale funziona, perché i servizi ci sono, perché non si è abbandonati contro le sfide che ti porta alla pubblica amministrazione, ma è una pubblica amministrazione amica che ti ascolta e ti permette di essere lavoratore e genitore, mamma e lavoratrice. Questo è il vero problema per cui in Italia e in tanti cittadini non si fanno più figli, perché non si possono coniugare più le due cose, perché si è scatenata una vera e propria lotta tra poveri. Ecco, noi abbiamo deciso con gli interventi anche importantissimi che la mia amica e collega Laura Gea, la mia compagna di viaggio, io la chiamo così, perché abbiamo fatto una traversata nel deserto in questi cinque anni all'interno del Parlamento europeo, proprio come loro siamo entrati tra lo scetticismo più generale, le critiche, ma chissà che cosa vorranno, ma sono degli estremisti, oddio mio sono arrivati i grillini, e invece noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo studiato, abbiamo fatto proposte di buon senso, concrete, e abbiamo denunciato quello che tanti altri non avevano il coraggio di denunciare, quello che finalmente ha detto anche il Consiglio d'Europa, che quelle manovre di austerity che hanno imposto in primis alla Grecia e dopo tutto il Mediterraneo, sono un crimine contro l'umanità, lo ha detto il Consiglio d'Europa, abbiamo avuto il coraggio di denunciare che non può esserci un'Europa finché ci sono dei paradisi fiscali dentro l'Europa, e noi non abbiamo paura di dirvi che questi paradisi fiscali si chiamano Olanda, Malta, Irlanda, Lussemburgo, e sapete perché non abbiamo paura? Perché noi i conti all'estero non li abbiamo lì, perché noi non abbiamo multinazionali che ci pagano le campagne elettorali, perché la campagna di Marta, così come le nostre campagne, ce le pagate voi con le microdonazioni di 10, 20 o 30 euro, e questo ci rende delle persone libere, delle persone che quando amministrano ricoprono veramente un mandato lo fanno con coscienza e con le mani libere, non dobbiamo andare a retribuire finanziatori occulti, per questo ci siamo potuti permettere di dire certe cose con la massima chiarezza e trasparenza e per questo dobbiamo continuarlo a fare anche adesso. Sappiamo che la sfida è ovviamente estremamente difficile, come diceva Laura, citando Luigi, questo a livello europeo sarà un vero e proprio referendum, ma non soltanto per decidere di sconfessare una volta per tutte le politiche di austerità, sarà un referendum anche per decidere una volta per tutte di imporre trasparenza, quella vera, perché ancora oggi tante decisioni si prendono nel Consiglio dell'Unione Europea e nessuno sa effettivamente quale posizione venga espressa da quale governo. Ancora oggi non si tutelano gli informatori, i cosiddetti whistleblower, quelli che hanno coraggio di denunciare, me ne vengono in mente tanti, con cui siamo stati in contatto, Snowden, Falciani e molti altri che hanno avuto il coraggio di puntare il dito, di tirare fuori dati che adesso sono perseguitati da quelle autorità giurisdizionali e di polizia che dovrebbero invece proteggerli. Ma sarà anche un referendum per cambiare il modo di fare politica, perché i partiti devono capire una volta e per sempre che il tempo della delega in bianco è finito. Oggi, grazie a Internet, grazie a un'interazione diretta che noi portiamo nelle piazze virtuali quanto nelle piazze fisiche, si può ogni giorno essere cittadini, ogni giorno poter esprimere una posizione e ci si può soprattutto esprimere ma anche ci si deve assumere una grande responsabilità colluttiva, perché quando Marta entrerà dentro quel palazzo comunale io sono sicuro che ci entrerà con la fascia tricolore, io ne sono convinto di questa cosa, non ci entrerà soltanto Marta, ci entreremo tutti quanti insieme a lei e questo lo possiamo fare anche perché ha cambiato il modo di fare politica, anche perché finalmente c'è qualcuno che ci vuole dare i mezzi per farla e proprio per questo ci possiamo anche permettere e lo facciamo con grande piacere di tagliare un terzo dei parlamentari tra deputati e senatori perché siamo il Parlamento in Europa con il più alto numero di eletti e vi dico ovviamente che i nostri padri costituenti avevano ragione all'epoca si usciva dal fascismo c'era una certa paura ampliamo la rappresentanza per far sì che ci sia più controllo oggi c'è nemmeno bisogno e mi fa ridere vedere quelli del Partito Democratico che fino all'altro giorno nel Senato volevano proprio rasarlo a zero hanno provato in tutti i modi a renderlo una camera inutile vuota una camera che serviva lo dico senza remora a dare solo l'immunità ai consiglieri regionali coinvolti in affari poco leciti e magari rinviati a giudizio oggi si stracciano le vesti dicendo che è un colpo di mano è un attentato ma non c'è problema se le opposizioni non vogliono darci la maggioranza qualificata dei due terzi noi andremo al referendum confermativo e vediamo stavolta che succede al referendum confermativo quando chiederemo di ridurre davvero i costi della politica e gli sprechi noi non abbiamo paura di rivolgersi al popolo forse qualcun altro sì per questo la nostra campagna l'abbiamo chiamata se lo diciamo lo facciamo qualcun altro potrebbe chiamare la sua se lo facciamo non lo diciamo perché forse ce ne vergogniamo quindi detto questo io vi ringrazio di vero cuore e vi impegno e vi chiedo un impegno forte un impegno a non lasciare Marta la sua squadra tutta la nostra lista gli altri consiglieri so che appunto adesso c'è anche Giovanni se non mi ricordo male nel team non lasciateli da soli hanno bisogno di voi hanno bisogno del vostro sostegno anche delle vostre critiche costruttive perché se c'è qualcosa che poi deve essere migliorato glielo dovete dire non dovete avere la paura di pensare che in qualche modo non ci si debba confrontare quando si smette di confrontarci che cominciano veramente i guai da ogni punto di vista loro hanno bisogno di sentire la vostra presenza e la vostra forza noi ce la possiamo fare vogliamo cambiare la storia di questo comune io e Laura saremo al vostro fianco per lavorare insieme anche sul tema dei fondi europei che so che vi è particolarmente a cuore così come l'abbiamo sempre fatto anche con i nostri altri sindaci abbiamo avuto il piacere sempre di andare a trovare io ricordo anche l'anno scorso l'inaugurazione di quella scuola meravigliosa che sei riuscita da costruire a Montelabate permetteteci di mandare dentro quel consiglio di mandare dentro quella casa comunale una sindaca fenomenale anzi fanomenale tanti auguri Marta forza così come ho aperto allora chiuderò l'incontro di oggi come dice qualcuno del Movimento 5 Stelle in alto i cuori quindi insomma andiamo con coraggio e con forza e anche con molta consapevolezza all'appuntamento di maggio sia per le europee che per le comunali che probabilmente sarà lo stesso giorno sarà l'Election Day che ci unirà in questa sfida quindi mi raccomando stateci veramente vicini raccolgo le ultime parole di Fabio Massimo perché veramente ne abbiamo bisogno perché siamo cittadini in mezzo ai cittadini quindi voglio dire veramente siamo tutti uguali da questo punto di vista e insomma siamo qui per ascoltarvi e per ascoltarci perché comunque sia vorremmo portare veramente il meglio come avete visto anche dal sito che potete consultare tutto il meglio per questa città una bella boccata di ossigeno ripeto quello che ho detto prima una moltiplicatrice di energia per la nostra città e quindi in alto i cuori e mi raccomando a maggio mi raccomando forza e convinti veramente nella direzione del Movimento 5 Stelle sia per Fano che per l'Europa grazie a tutti di essere stati qui con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti